C'è chi crede che i simboli possono curare, e questo è evidente per tutto il mondo religioso. I fatti avvengono in miracoli e avvengono grazie dei simboli. I simboli sono delle energie che possono curare, soprattutto spiritualmente. Questi lavori che sembrano dei mandala hanno della simmetria, e questa simmetria fa da baricentro alla nostra visualità. Osservandoli si concentra sul loro centro, e questo fa equilibrare il nostro baricentro visivo e psicologico. E farà sì che noi saremo più concentrati. Siamo noi i creatori del mondo, attraverso le nostre idee e attraverso il nostro subconscio. In questo periodo di quarantena, ho pensato che questi miei lavori possono fare da scudo a tutte le malattie. E questo per me è vero. È ovvio che occorre credere nella bellezza, nella giustizia e nella bontà. Questa è la visione della grazia. La visione della bellezza. La visione della trasparenza. La visione della trasparenza.